Allora, oggi ho scelto come argomento Pitch Class Set, cioè di affrontare un tema che appartiene più alla musica contemporanea del secondo novecento, che io ho trovato molto interessante nel mio percorso artistico negli ultimi anni. Parto da un'esigenza personale, da riflessioni che ho fatto in questi anni, quando mi confrontavo con materiali musicali, anche tonali, cioè anche non necessariamente Avant, lì dove comunque percepivo che nella ricerca improvvisativa, in particolare ma anche compositiva, mancassero degli strumenti per affrontare tutti quei materiali da un lato che escono dal materiale riferito alla musica funzionale. Faccio un esempio, un voicing o un insieme d'ore, bemolle, sol, bemolle e sol. Come lo inquadriamo in un ambito tonale? Eppure sono sonorità che nel jazz si usano, anche da un punto di vista improvvisativo. Ho un po' sentito il bisogno e l'esigenza di dare un nome e un cognome a questi materiali che mi trovavo ad affrontare strada facendo nel percorso. Leggendo un libro dell'E.D.T. sull'analisi musicale, diviso in diversi paragrafi, partendo da quella scencheriana più tradizionale, l'ultimo capitolo era dedicato al pitch class set. E come accade delle volte nella vita, uno cerca e trova quello che stava cercando. Pitch class set sono un sistema di analisi e di anche composizione che appunto nasce nel secondo dopoguerra grazie in parte a questo signor qua che si chiama Allen Forte, un musicologo. Proprio in questo articolo era citata la sua analisi della Sagra della Primavera di Stravinsky, dove lui individua delle relazioni armoniche e melodiche, attraverso questa analisi giustifica delle relazioni che finora erano arbitrarie, o ritenute arbitrarie, nel senso che non avevano un supporto teorico. Questa è la domanda che sorge, è Stravinsky era consapevole, usava i pitch class set? No, probabilmente no. Perché in un certo qual modo questo tipo di strumento è un qualcosa che non è una visione estetica in qualche modo, non è un, non lo so, utilizziamo lo spettralismo o la tonalità o la dodecafonia, come dire, è un sistema che in sé ha delle regole formali, ma nello stesso tempo implica in qualche modo una visione estetica. Questo è un puro strumento tecnico, è un tool, detta banalmente, che consente di guardare un po' più in profondità i materiali non riferibili all'armonia funzionale, da un lato, e dall'altro anche uno strumento compositivo perché apre delle porte, secondo me, interessanti da un punto di vista pratico per chi scrive musica, per chi improvvisa. In Europa non ha particolarmente preso piede questo sistema di analisi, che invece negli Stati Uniti, grazie a questi musicologi, ma al compositore Milton Bebbitt, che è uno che più ha approfondito questi temi e molti altri, infatti è usato nel jazz, ad esempio Steve Coleman, Man Bass, Miles O'Kazaki usano spesso questo tipo di analisi dove vedete banalmente i numeretti scritti al posto degli accordi, perché uno dei principi è appunto di sostituire le altezze con numeri interi. in qualche modo questo sistema rientra, a mio vedere, appunto non è una tecnica estetica, ma è un puro strumento e rientra in tutto quel tipo di ricerche fatte nel Novecento, che cominciano un po' con Ferruccio Busoni, che aveva scritto un elenco di tutte le scale eptafoniche, che quindi non ha una visione estetica dietro, ma ha la funzione di esplorare tante diverse possibilità e di dare un insieme di soluzioni diverse fuori dal mondo dell'armonia funzionale, tonale. Un altro esempio di questo tipo di un po' visione enciclopedica è Nikola Zlonimski, il Thesaurus of Pattern on Scale, che è più usato nel jazz, lì dove si cerca veramente di dire cosa possiamo fare con le dodici altezze, queste sono le possibili combinazioni, perché chiaramente avendo a che fare con dodici suoni abbiamo un insieme finito di combinazioni, e infatti quello a cui arriveremo alla fine è la tabella con tutte le possibili combinazioni tra le diverse altezze. Io ho anche pensato è possibile fare la stessa cosa da un punto di vista ritmico, in qualche modo è possibile, ma è molto più complicato perché ovviamente il ritmo invece rientra un po' in un insieme infinito di combinazioni, non hai dodici suoni, ma puoi avere dei pattern in qualche modo di riferimento, ma fare un processo simile da un punto di vista ritmico è molto più, è impossibile sostanzialmente. Invece con i dodici suoni, e qui quindi escludiamo anche tutto quello che riguarda microtonalità, che è un capitolo a parte interessante, però diciamo all'interno dei dodici suoni possiamo trovare delle combinazioni interessanti. Passo già, vado già al sodo della questione, partendo da un banale voicing di jazz, no? Fa si mi, che a seconda della tonica di riferimento cambia il valore dell'accordo, ma noi utilizziamo, come dire, questi tre suoni in diversi contesti armonici, quindi potrebbe essere fa si mi, un re minore sesta, un sol settima con la tredicesimo, un re bemolle con la nona più, no? A seconda del... Allora, il primo passo per dare, come dire, io sentivo questa esigenza, questo materiale non ha un nome, no? Come posso, come dire, esplorarlo e andare a fondo di questa potenzialità che noi, ecco, la cosa importante secondo me è che questi materiali spesso non li usiamo in maniera intuitiva, cioè tutte queste cose che io andrò a dire spesso vengono fatte, come probabilmente ha fatto Stravinsky da un punto di vista pratico e intuitivo. è riuscire a trasferirlo in formule e spesso un po' matematiche e regole ti permette un passo ulteriore, quindi non è appunto un... si può fare anche a meno di questo, ma io lo trovo interessante potenzialmente come sviluppo. Allora, fa si mi, il primo passo è ridurlo in modulo 12. Cosa vuol dire modulo 12? Per chiarire questo basta prendere a riferimento l'orologio, clockwise, come si suol dire, e attribuire a ogni ora una nota, un'altezza. Passano i giorni mattina, sera, giorno dopo, giorno prima, ma l'orologio fa sempre lo stesso processo, cioè cosa facciamo noi? Riportare a modulo 12 significa non considerare la differenza delle ottave, ma riportare tutte le note alla stessa ottava, quindi noi ragioniamo... il nostro fa si mi è già nella stessa ottava, ma non ci interessa che sia il mi due tagli sopra o il primo rigo diventa un'entità astratta all'interno di questi 12 suoni. Interessante il modulo 12 perché, e qua potrebbe essere una lezione a parte, uno può provare a ragionare anche in diversi moduli, modulo 3, modulo 5, modulo 6, provare a selezionare dei suoni e vedere le combinazioni, ma questo è a parte. Il secondo passo, ripeto, perché noi qua troviamo, cerchiamo di trovare una formula che esprima il nome di questo accordo, è quello di ottenere la combinazione più compatta possibile di questi insiemi di suoni e per fare questo ovviamente dobbiamo stabilire delle convenzioni, infatti esistono diversi pitch class set tables, cioè a seconda della convenzione che noi decidiamo di utilizzare, questi raggruppamenti vengono effettuati in maniera diversa. Qua io faccio riferimento a quello di Allen Forte, che è il più diffuso, diciamo. Il primo principio è quello di, dopo aver ridotto alla stessa ottava le nostre note, disporle in modo crescente, effettuare tutte le possibili rotazioni di questo insieme di tre note e trovare quella che ha la distanza minore tra la prima e l'ultima. Questo è un principio. Il secondo principio è quello di calcolare la distanza minore tra la prima e la seconda nota, tra la prima e la terza nota, in modo da ottenere un insieme compatto. Ad esempio, il nostro fa si mi è già in una rotazione, la seconda rotazione è da una distanza tra la prima e l'ultima nota di una settima maggiore, si mi fa a una distanza di un tritono e mi fa si alla distanza di una quinta. Allora, noi scegliamo di utilizzare il tritono, che è la distanza più piccola. Infatti, la nostra formula finale, il raggruppamento finale, sarà questo. La campana mi tiene compagnia. Terzo passo è quello di trasportare questo insieme di altezze in modo che l'altezza più bassa sia il Do. E quindi, in questo caso specifico, il si mi fa verrà trasportato di un semitono sopra diventando Do fa sol bemolle. E qui cominciamo ad avvicinarci a quella che viene chiamata la prime form, cioè quella unità cellulare originaria che identifica l'insieme. Il passo successivo è trasferire le altezze dal loro nome tradizionale in numeri interi. Lì dove il Do è lo 0, è sempre lo 0, l'1 è il Re bemolle, il 2 è il Re, fino al Si che è l'11. E quindi trasferiamo i nomi delle nostre note in numeri. E otteniamo, dopo averlo trasportato appunto in Do, quello che è tra parentesi che sono le distanze. Do è lo 0, il Fa sarà il 5, perché tra Do e Fa sono 5 semitoni, e il Sol bemolle è il 6, è il tritono. Questo trasferimento, oltre a risolvere i problemi inarmonici, cioè di risolvere un po' il problema se un Re bemolle è Re bemolle o Do diesis, che nella musica tonale è un problema esistente, perché ovviamente se non c'è un riferimento tonale, come lo chiamiamo, ci permette di avere sempre una visione chiara delle distanze, di quanto distano le singole note in termini numerici. Questa è la classificazione dell'insieme, nel senso che dopo vedremo la tabella, è un insieme che ha cardinalità 3, cioè ha tre elementi, ed è il quinto di questi insiemi di tre elementi, sempre partendo in ordine crescente, che è una formulazione che non ha nessuna ragione, e sono una convenzione che si stabilisce di ordinare sempre in modo crescente tutti gli insiemi. Perché c'è questa B? La B sta per un insieme, e qua cominciano le cose interessanti, lì dove diversi insiemi che hanno caratteristiche simili possono essere sovrapposti. è lo speculare di questo, di do, re, bemolle, sol, bemolle, cioè praticamente rimane la distanza di tritono, e il semitono viene posto non tra la seconda e la terza nota, ma tra la prima e la seconda. E quindi il 3,5B è, diciamo, il parente più prossimo del 3,5. Ok? Sono stato abbastanza chiaro fin qua. Fin qua abbiamo descritto un po' il nostro insieme del materiale che abbiamo a disposizione. Adesso arriva uno degli elementi più interessanti, che è il vettore intervallare. Il vettore intervallare è, in un certo senso, una sorta di codice genetico di questo insieme, ed è descritto da sei numeri, ognuno dei quali identifica un intervallo, la presenza o meno, e la quantità degli intervalli presenti. Ad esempio, la prima cifra sta per la seconda minore, seconda maggiore, terza minore, terza maggiore, quarta e tritono. Gli altri intervalli dove sono? Non ci sono, nel senso che si considerano tutti gli intervalli complementari come un unico intervallo, cioè che ci sia la seconda minore o la settima maggiore, è la stessa cosa, perché viene considerata una semplice inversione. L'obiettivo è semplificare, arrivare ad avere una forma scarna, duttile, e semplice, e univoca. E quindi, del nostro insieme do, fa, sol bemolle, o do, re bemolle, sol bemolle, che hanno la stessa proprietà, abbiamo tutte le possibili combinazioni di intervalli all'interno di questo insieme, che ci danno questa sorta di codice genetico dell'insieme, come dicevo, o vettore intervallare, che in questo caso è un semitono, zero toni, zero terze minori, zero terze maggiori, una quarta e un tritono. Ovviamente, tutti i loro intervalli complementari, quindi una settima maggiore, una quinta e un tritono, perché il tritono ovviamente divide a metà l'ottava, per cui rimane invariato. Questo è molto interessante, questo dato, secondo me, perché in qualche modo ci dà la caratteristica timbrica, sonora, no timbrica, no, ma diciamo, intervallare dell'insieme che stiamo utilizzando, e ci dice, in questo caso, che c'è un semitono un tritono e una quarta o quinta. È un dato interessante, secondo me, quando si utilizza un materiale e lo si vuole sviluppare in un determinato modo. Sai che questo insieme può generare combinazioni di questi intervalli e quindi ha un suo colore, ha una sua caratteristica. Per spiegare questo in maniera ancora più evidente, se mi consentite, ho preso la scala diatonica maggiore, perché anche l'armonia funzionale, vi ripetevo prima, non si tratta di avere una visione estetica della musica, allora la musica deve funzionare per PC class 7, è solo uno strumento, abbastanza assettico e razionale, lì dove anche l'armonia funzionale in qualche modo può essere filtrata attraverso questa lente di ingrandimento. Scala diatonica maggiore, dobbiamo fare lo stesso processo, dobbiamo ottenere tutte le rotazioni che sono i modi della scala maggiore e cercare l'intervallo minore tra la prima e l'ultima nota e quindi escludiamo le due in modo ionico e lidio. Degli altri cinque rimanenti cerchiamo tra il primo e il secondo intervallo il più piccolo e quindi rimangono il frigio e l'ocrio. Dei due tra frigio e l'ocrio, il l'ocrio è quello che è più stretto nel senso che la quarta nota è a distanza di tritono e quindi trasferiamo la nostra modo l'ocrio e qua adesso manca la prima nota ma potete intuirla che è un do lo trasportiamo in do maggiore quindi anche qua lo trasportiamo sopra di un semitono e otteniamo il nostro insieme che in questo caso è 7,35 nella classificazione di Allenforte cioè sette elementi in ordine crescente è il trentacinquesimo ok e ha questo e ha questa prime form 0,1,3,5,6,8,10 che sono le distanze tra le singole note andiamo a vedere il nostro vettore intervallare che è 2 sappiamo ci sono due semitoni due secondi minori 5 secondi maggiori 3 terze minori cioè 4 terze minori 3 terze maggiori 6 quarte e un tritono è il codice già un genetico di una scala maggiore diatonica qual è la caratteristica interessante di questo tipo di scala che in qualche modo al di là dei fattori culturali sociali che possono determinare un maggiore un utilizzo di meno ci spiega perché questa scala è stata così usata nella storia della musica che ogni intervallo compare una sola volta con un numero intero diverso e crescente cioè abbiamo un tritono 2 secondi minori 3 terze maggiori 4 terze minori 5 quarte e 6 scusate 5 secondi maggiori e 6 quarte cosa vuol dire? che questa scala genera tanti materiali diversi e quindi è più varia fornisce tante possibilità di combinazioni armoniche e melodiche diverse rispetto se prendiamo adesso non l'ho scritta ma se prendiamo ad esempio la scala esatonale la scala esatonale che ha come prime form 0, 2, 4, 6, 8 10 cioè distanza tutti i numeri pari e il suo simmetrico ha tutti i numeri dispari ha come codice intervallare 0 semitoni 6 toni 0 terzi minori 6 terze maggiori 0 quarte e 3 tritoni quindi nel codice intervallare vedi come dire è assolutamente evidente come questa scala la scala maggiore diatonica che viene chiamata rientra in quella categoria che in questo contesto viene chiamata deep scale proprio deep scale è la definizione di una scala che ha tutti numeri interi diversi all'interno del vettore intervallare mentre appunto l'esatonale ha 6 0 6 0 6 0 3 cioè ha una simmetria e quindi ha un determinato colore bellissimo utilizzabile ma il vettore intervallare riflette la sua staticità se volete no cioè che le possibili combinazioni alla fine sono limitate rispetto alla scala maggiore e un'altra deep scale è questa 7 1 ve l'ho citata così per curiosità che è la la scala cromatica dal do al fa diesis do do diesis 7 suoni che generano questo vettore intervallare 6 5 3 2 1 cioè 6 semitoni 5 toni interi 4 terze minori 3 terze maggiori 2 quarte e un tritono e anche questa è una deep scale ok vi faccio vedere visto che ne abbiamo parlato la prima questo lo trovate online è il primo che risulta nella ricerca Google però all'enforte quello che abbiamo visto prima questo è un numero puramente indicativo dell'elenco questo è il forte name cioè lasciate perdere le prime due che confondono le idee 2 indica il numero della cardinalità cioè degli elementi utilizzati 1 è il primo in ordine crescente 0 1 vuol dire do re bemolle quindi un semitono e questo è il vettore intervallare che lo caratterizza e qua poi c'è un nome descrittivo come dire giusto per dare idea poi dopo si va ai 2 ai 3 e via discorrendo fino alla scala cromatica ed è un insieme finito qua trovate il 3 5 di cui parlavamo prima 0 1 0 0 0 0 1 che è uguale al 3 5 vedete che ci sono degli asterischi qua non c'è la z e dopo attraverso la cosa interessante secondo me è che da questa analisi derivano una serie di proprietà molte delle quali noi usiamo spesso nel jazz il trasporto è la più banale cioè sommo a un insieme un numero finito voglio trasportare di un tono sommo a questi 0 2 2 quindi se voglio trasportare verso l'alto di un tono questo diventerà 2 e questo diventerà 4 cose che noi facciamo intuitivamente però ci sono altre proprietà interessanti oltre a quelle più conosciute che derivano dalla musica classica moderna contemporanea tipo retrogrado situazioni di inversione oppure anche mirroring cioè degli insiemi che sono hanno delle caratteristiche che si specchiano l'uno con l'altro e quindi si creano delle relazioni la complementarietà cioè utilizzo 5 suoni gli altri 7 restano fuori qual è la relazione tra questi due insiemi? a seconda degli insiemi cambia esiste tutta una categorizzazione molto complessa di cui io non sono esperto però cerco in qualche modo di alle volte quando mi trovo di fronte al materiale musicale di utilizzare queste tavole per scoprire magari delle cose che non sono così evidenti appariscenti ad esempio una proprietà ne cito una che non è molto usata che trovo molto interessante è la moltiplicazione che è una cosa che si usava nella dodecafonia nella serialità se avete una serie dodecafonica o no potete trasportarla potete fare l'inverso l'etrogato potete fare anche la moltiplicazione cioè decidete di moltiplicare quei numeri per un numero intero la maggior parte dei numeri interi genera delle serie non interessanti anche ripetitive quello che facevano i compositori dodecafonici spesso è moltiplicarlo per 6 o 7 quindi per l'intervallo di quarto di quinta ma moltiplicare non sommare si generano delle serie che mantengono la caratteristica originaria in qualche modo ma nel nostro tempo la cambiano cioè può essere un modo interessante per ottenere una serie imparentata per principio di moltiplicazione con quella originaria ma c'è ovviamente molto da esplorare in questo senso e l'ultima cosa che vi faccio vedere si è rivisciato un errore ma non importa lo trovate online è un pitch class set calculator cioè potete trovarlo online inserire qua le altezze compare anche una piccola tastiera volendo senza i numeri potete anche cliccare sulla tastiera che vi dà una serie di dati cioè la forma originaria la prime form di cui parlavo vettore intervallare l'eventuale appunto vettore imparentato z cioè che ha lo stesso codice intervallare e poi una serie di proprietà sub set e sotto insieme super set e sovra insieme insomma c'è tanto materiale qua da sul quale lavorare e sul quale si possono ottenere delle secondo me delle cose interessanti sia di analisi che di composizione ad esempio questo l'ho fatto sui brani di Monk che sono spesso costruiti sui elementi cellulari di poche note che si spostano in maniera simile cioè in maniera non necessariamente identica ma simile trovi delle cose interessanti ho anche certi assoli di musicisti ho fatto un'analisi di un assolo di Steve Lehmann e vengono fuori delle cose poi l'ho spedito a Steve Lehmann non me ne ero accorto di queste cose perché tutti utilizziamo dei materiali no? e spesso con consapevolezza più o meno grande però forse esserne coscienti o comunque avere la possibilità di analizzarle può essere interessante di un'anima di un'anima di un'anima di un'anima